E siamo dunque arrivati all'epilogo. Frattura che getta la maschera e si rivela, anzi si conferma, per quello che in effetti è. Un uomo d'affari, abile, ma nemmeno tanto, e spregiudicato che non riesce a separare la sua avventura politica dai numerosi interessi finanziari. Il frattura politico, governatore del Molise, che sostiene il frattura imprenditore, notoriamente in crisi indebitato con le banche, che non sa più cosa inventarsi. Società presta nomi, sigle, scatole vuote. Frattura che da un lato si colloca all'origine della catena societaria della centrale a biomasse di Campochiaro, dall'altro la autorizza, la ordina, la impone agli alleati della coalizione. La centrale, passata di mano in mano, senza mai perdere di vista l'obiettivo. Mani familiari, mai estranee. Prima le sue, poi quelle della compagna Antonelli, e poi ancora quelle del suo storico braccio destro, che è anche capo di gabinetto e segretario di giunta, Mogavero. Infine quelle del marito della Mogavero, di Domenico. E la lettera indirizzata alla dottoressa Aufiero, firmata per conto di frattura proprio da Mariolga Mogavero, che sulla centrale non avrebbe dovuto mettere né bocca né penna, se non altro per quel comune senso del pudore che ognuno dovrebbe custodire dentro di sé, in presenza di una vicenda che riguarda il consorte, è più del segno di una scorribanda istituzionale. È una metafora atroce, che riassume questi anni bizantini, questa atmosfera da regime, questo clima da basso impero in cui pubblico e privato, famiglia e istituzioni, amici e funzionari, soci e dirigenti diventano la stessa cosa. Né più e nemmeno del frattura proprietario della Biocom, che prende i soldi dalla regione e chiede al frattura governatore della regione se quei soldi destinati a un progetto mai realizzato siano da restituire. E infatti non li ha restituiti. E il sogno del Molise di tutti si infrange contro le ruspe che si presentano all'alba protette e scortate da uno schieramento di forze dell'ordine degno della Val di Susa, con i manganelli pronti a sedare, rivolte e subbugli inesistenti. Ruspe e scavatori, mattoni e cemento, fuoco e fiamme sulla splendida valle del Matese. Frattura getta la maschera e straccia senza pudore il cambiamento strombazzato e il modello molisano tutto verde, ambiente, turismo, benessere, cultura, che aveva promesso con un programma elettorale di inganni e di illusioni. Frattura che con la grazia di una ruspa per restare in tema va per la sua strada incurante del malessere e della disperazione popolare, dimostrando tutta la sua mancanza di stoffa politica. Senza la quale stoffa politica ha trovato il modo di ironizzare sui politici che si sono recati al presidio, ma non ha avuto il coraggio di rivolgersi direttamente alle centinaia di persone che lo invocavano da giorni. Magari spiegando loro quali strabilianti ricadute occupazionali, turistiche e produttive avrebbero avuto in cambio dello scempio del loro territorio. E magari spiegando ai medici che hanno sentito invece il dovere di intervenire pubblicamente sui rischi connessi all'attività delle centrali che la salute della popolazione non è esattamente una priorità contemplata dalla brama degli affari. Non esiste un provvedimento, uno solo, che sia di interesse collettivo, nulla di nulla. Frattura voleva essere il presidente di tutti ed è il presidente di nessuno, il presidente del nulla. Forse, nonostante tutti gli sforzi, non è nemmeno il presidente di se stesso.